L'initazione del movimento anti-equitalia si è conclusa nel pomeriggio la protesta, il sitin del movimento davanti alla sede dell'Agenzia delle Entrate in via Pintus a Pirri. I manifestanti hanno incontrato il direttore dell'Agenzia delle Entrate e nei prossimi giorni previsto anche un incontro con il prefetto di Cagliari, il servizio di Andrea San Giust. Siamo qui all'Agenzia delle Entrate perché il problema che noi abbiamo nei confronti di queste persone è che le azioni che stanno mettendo in atto nei nostri confronti ormai sono devastatorie. Un'altra azione dei movimenti che contestano Equitalia è il sistema di imposizione fiscale di recupero del debito. Stamattina si sono presentati in una settantina alla sede dell'Agenzia delle Entrate di Cagliari. L'idea era quella di entrare pacificamente, prendendo il biglietto come un qualsiasi utente, e poi occupare altrettanto pacificamente gli uffici. I piani sono stati rovinati, in parte da un tempestivo arrivo delle forze dell'ordine che hanno bloccato sul nascere ogni forma di occupazione, il tutto in un clima di grande fair play, come sempre avviene con questi movimenti. La consulta dei movimenti ha da proporre le sue stanze, il blocco e la riforma degli studi di settore, l'impossibilità di mettere all'asta la prima casa, una profonda revisione del sistema sanzionatorio, l'estensione della rateizzazione a 72 mesi anche per quanto richiesto dall'Agenzia delle Entrate. La moratoria per i provvedimenti di sequestro e pignoramento di beni e servizi. Si tratta di una umanizzazione del recupero del debito e dell'imposizione dei tributi, che deve permettere a famiglie e aziende di sopravvivere, dicono i rappresentanti dei movimenti. In caso contrario si affaccia all'ipotesi dello sciopero fiscale. C'è anche un attacco diretto all'Agenzia delle Entrate, viene citata la sentenza del Tar del Lazio sugli incarichi dirigenziali. Quello che siamo venuti a fare questa mattina è a fargli capire a queste persone che se non danno un fermo e non iniziano a lavorare seriamente per rimettere in piedi le nostre aziende o comunque le situazioni debitorie di tutto il popolo sardo, si demanderà sicuramente uno sciopero fiscale.